Per comprendere il motivo di questa norma bisogna fare semplicemente l'elenco dei dieci imputati che in quel momento rischiavano la galera. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi a centinaia. Ne consegue che l'impostura, cioè la menzogna di regime funzionale alla perpetuazione del potere illegale, è arrivata a contaminare perfino la legge, cioè quella che dovrebbe essere la massima espressione dello Stato democratico, di diritto della sovranità popolare. In altri termini i pozzi sono avvelenati e l'acqua marcia per infiltrazione e trasudazione, intrido ormai gran parte delle mura e dei pilastri portanti della casa comune. Una casa che ogni giorno di più è ammorbata dai miasmi dell'illegalismo di massa di queste classi dirigenti. In altri termini, ieri come oggi, la questione criminale, essendo questione che riguarda in gran parte la classe dirigente, è inestricabilmente intrecciata alla questione Stato. E il suo evolversi determina l'evoluzione delle forme stesse dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi. Per questo motivo il libro che stasera presentiamo, a mio parere, purtroppo, e sottolino purtroppo, ciò che un paese civile non dovrebbe essere, e cioè un libro di storia, un manuale di diritto pubblico, un'impressionante e imprescindibile chiave di lettura per la comprensione del presente e del futuro del paese. Procedendo per grandi sintesi, se ripercorriamo a ritroso la storia del paese, possiamo constatare come dallo scandalo della banca romana del 1892 ad oggi è sempre stato un interrotto su seguirsi di scandali finanziari dal periodo dell'età menarchica, al fascismo, che arrivano fino alla prima repubblica e che si riconciugono con straordinaria continuità agli scandali dell'ultimo periodo. Una storia circolare che si ripete sempre uguale a se stessa, anche nei suoi esiti finali, cioè l'impunità garantita ai potenti. Se si esamina la composizione della popolazione carceraria, dall'unità ad oggi ci si rende conto che non è mai cambiata. In galera finiscono sempre e soltanto gli ultimi della piramide sociale. I potenti non ci vanno a finire mai. E che impone una riflessione. E cioè se nonostante, e cioè che nonostante il susseguirsi delle forme diverse dello Stato, mararchia, fascismo, repubblica, esiste e persiste in questo paese una straordinaria continuità della giustizia di classe. Gli unici momenti storici nei quali la giustizia di classe è sempre essersi inclinata, essersi trasformata in una giustizia uguale per tutti, sono momenti transitori nei quali per motivi di carattere internazionale la classe dirigente di questo paese è entrata momentaneamente in crisi allentando la sua presa sull'ordine giudiziario. Possiamo ricordare due momenti, la caduta del fascismo a seguito della seconda guerra mondiale e la caduta del muro di Berlino. Non appena i fattori internazionali esauriscono i propri effetti, gli assetti interni si riequilibrano, le modalità ed una delle conseguenze di questo riequilibrio è che la classe dirigente riprende a condizione della giudizione in modo da disinnescare il controllo delle carità e garantirsi l'impunità. che in questi frangenti storici la necessità di riprendere il controllo della giudizione costituisca una priorità politica imprescindibile mi pare indicativo dell'elevatissimo tasso di illegalismo che da sempre caratterizza l'operato delle nostre classi dirigenti. Esiste, io quindi, credo, una incompatibilità di sistema tra la classe dirigente e una giudizione indipendente, una giudizione, cioè, che operi come variabile indipendente rispetto ai rapporti di forze politici. Non è un caso, nel resto, che l'ordinamento che garantisce indipendenza e autonomia alla magistratura sia stato introdotto dalla Costituzione del 1948 e in un momento particolare della storia del Paese. Nell'immediato dopoguerra, dopo la caduta del fascismo, nel disfacimento del vecchio establishment, nessuno sapeva chi avrebbe vinto l'elezione e tutti i partiti avevano in quel momento interesse a un ordinamento della magistratura che non la trasformasse, come era avvenuto durante il fascismo, in un instrumentum regni della maggioranza di turno. Superato quel contingente della storia e ristabilitisi i vecchi equilibri, quella Costituzione fu a lungo sabotata e rinnegata e indipendenza della magistratura fu duramente conquistata negli anni successivi e dopo anni di fibrillazione, la recente riforma dell'ordinamento giudiziario Castelli-Mastella pone finalmente fine a una ferita che la Costituzione del 48 aveva aperta. Pone fine a una contraddizione tra Costituzione formale e Costituzione materiale del Paese. L'orologio della storia è stato riportato indietro ai tempi d'oro dell'epoca fascista e prefascista, d'oro per l'oro, si capisce, quando l'uso e l'abuso dei poteri disciplinari e paradisciplinari messi in mano al ministro, a procuratori generali, a procuratori della Repubblica, consentiva alla classe dirigente di tenere sotto il proprio tallone di ferro quella parte della magistratura che non era disposta a piegarsi ai diktat politici. La versione del ceto politico e dell'establishment dei processi penali ha una ragione profonda. Data Centopoli ad oggi, i processi, oltre a assolvere la loro funzione istituzionale di accertare la responsabilità penale di specifici individui in relazione a specifici reati, hanno assolto anche un'altra importante funzione. Quella di un rito di disvelamento collettivo dell'oscenità del potere. I cittadini hanno compreso che il vero potere non è quello che si esercita sulla scena. Sulla scena istituzionale il potere si mette appunto in scena. Il vero potere è quello che viene praticato nel fuoriscena, nell'obuscelum, nello sceno. E lo spettacolo è raccapricciante e disgustoso. Il muro di umanità collettiva che il potere ha costruito intorno alla propria attività o scena, mediante metodi di intimidazione che sembrano a volte a replicare in modo incruento quelli mafiosi, viene talora lacerato dalle microspie delle intercettazioni che, essendo macchine inintelligenti, non intendendosi di compatibilità sistemiche, registrano oggettivamente indiretta la voce del potere. Ed è come rimuovere un sipario e intravedere dietro i sepolcri impiancati che occupano la scena un immondo verminaio. È come passare dal salotto buono dove sono messi in mostra i ninnoni, le memorie di famiglia, alla stanza di Barba Blu dove sono occultati gli scheletri. Rileggere le trascrizioni delle intercettazioni riportate nel libro lascia costernati per il tasso di violenza che trasuda dalle conversazioni dei potenti. Se sono rimasto impressionato io che da anni passo il tempo ad ascoltare le conversazioni dei mafiosi, vi potete immaginare, anzi, se devo essere sincero, vi devo dire che il linguaggio di taluni mafiosi è più castigato e più signorile di quello di alcuni potenti. Grazie. Per tirare le fila del discorso su questo punto, quindi dobbiamo concludere che non solo vi è un'incompatibilità sistemica tra classe dirigente e magistratura indipendente e giornalismo indipendente, ma c'è anche un'incompatibilità sistemica tra classe dirigente e intercettazione. E nel libro troverete, infatti, un ampio resoconto dei progetti di legge che sono in cantiere per mettere definitivamente la mordacchia all'intercettazione e impedire all'opinione pubblica di vedere l'esercizio osceno del potere dietro lo scenario di carta pesta dell'istituzione. Questa straordinaria continuità della tangentopoli italiana e delle impunità garantite sui protagonisti impone, secondo me, alcune riflessioni. La prima è che sarebbe finalmente ora di farla finita con la solità solfa della questione morale. Una corruzione sistemica che dura dall'unità d'Italia ad oggi non è questione morale, ma è questione criminale che per la sua dimensione di massa investe il funzionamento stesso dello Stato, della democrazia e che ha proiezioni macroeconomiche. e che ha qualificativino